Con il ripescaggio della Pistoiese in Serie C, la Società Arancione ha ufficializzato la composizione del nuovo staff tecnico che vede sedersi in panchina Davide Sassarini, 49 anni, ex allenatore tra le altre squadre di Gozzano, Varese, Vis, Pesaro e Albino Leffe. Il suo assistente è Davide Alessi, che ha alle spalle numerose esperienze nei settori giovanili di Serie A e Serie B. Il preparatore atletico è Michele Grassi. Nel ruolo di preparatore dei portieri è stato scelto Cristian Tosti. Il direttore sportivo è Stefano Stefanelli, vecchia conoscenza della Pistoiese, avendo vestito la maglia arancione come attaccante alcuni anni fa. Stefanelli arriva dal Napoli, dove ha ricoperto il ruolo di DS nella formazione primavera. Come team manager è stato confermato Vanni Pessotto. In campo per i primi allenamenti ci sono già diversi giocatori, alcuni in prova, altri in attesa di tesseramento. Portieri Simone Toselli, 18 anni, Matteo Raspa, 20 e Pietro Pinocchi, 17. Difensori Alessio Biagioni, 18, Alessio Curumi, 18, Lorenzo Taverni, 19, Gianvito Pertica, 21, Minel Sabotic, 27, Lorenzo Vignati, 21, Alessandro Martina, 21, Luca Zanon, 25, Mauro Zitelli, 21. Centrocampisti Lorenzo Boganini, 18, Cesare Tramascere, 19, Davide Fortunati, 20, Filippo Cappellini, 18, Thomas Bolis, 23, Pietro Tempesti, Veti, Raul Mal, 21, Viviano Minardi, 23. Attaccanti Lorenzo Pinzauti, 27, Fodesilla, 21. Al momento del gruppo non fa parte Francesco Valiani, che deve ancora accordarsi con la società. La pistoiese debuterà in una competizione ufficiale il 22 agosto a Cesena in Coppa Italia. Per la prima di campionato bisognerà attendere domenica 29 con la trasferta ad Olbia in Sardegna.